Si chiama Jessica Betti, pensate che è la protagonista di questo video di oggi che ha fatto qualcosa di davvero incredibile. Cosa vi starete chiedendo? Questa donna avrebbe tentato di passare il test antidroga con l'urina del suo cane, però il piano è andato a monte, infatti non è andato bene e non ha funzionato. I modelli infatti sono del tutto non compatibili e quindi sono rilevabili in maniera molto facile e molto semplice. La donna infatti non voleva sottostare alla richiesta del Tribunale americano della Florida e per questo motivo avrebbe cercato di ingannare la relativa autorità. Ma tutti, o meglio le autorità ci sono accorti di quello che effettivamente parlando è stato compiuto da questa donna che ha sfruttato per l'appunto, ripeto, l'urina del cane ma non l'ha fatta franche e infatti sono non compatibili. Grazie a tutti, il video termina qua. Ciao a tutti e una buona serata. Grazie a tutti.